Sempre peggio il quadro sicurezza Cremona. Nel weekend diversi gli episodi segnalati e gli interventi delle forze dell'ordine. Una donna è stata aggredita in piazza Libertà dove era scesa dalla macchina per ritirare soldi al bancomat. Un uomo è salito sulla sua auto e l'ha minacciata con un coltello per farsi consegnare i soldi appena ritirati. E' poi fuggito con la vettura della donna lasciandola in piazza a chiedere aiuto. L'uomo di 25 anni circa italiano è ancora ricercato. Due bulgari di 38 e 46 anni residenti a Cremona sono stati invece denunciati dai carabinieri di Fidenza per possesso di arnesi atti allo scasso. I due sono stati fermati l'altra notte all'uscita del casello della Uno mentre viaggiavano a bordo di una Ford Mondeo. Sono stati sottoposti a perquisizione del mezzo dove i militari hanno trovato gli arnesi da scasso. Oltre alla denuncia per porto abusivo di oggetti atti ad offendere, ai due è stato notificato un avvio del procedimento per il rimpatrio con foglio di via obbligatorio. Tre giovanissimi residenti sul Piacentino, uno di nemmeno 14 anni, sono stati sorpresi infine dai carabinieri nel corso di una serie di controlli antistupefacenti. Sul piazzale di sosta delle extra, anvie i trenati tra il 2002 e 2004, residenti a Castelvetro, San Giuliano e San Pedretto, stavano fumando uno spinello prima di entrare a scuola, avevano con sé un altro grammo di ascis. Sono i più giovani di un gruppo di persone segnalate alla prefettura, quali assuntori nel corso dell'ultima operazione di prevenzione sul consumo e spaccio di stupefacenti condotti dai carabinieri di Cremona. Avanti così, avanti male, molto male.